E' un'esclusiva giapponese. Ma è stato portato in America e in Europa trasformandolo in Alex Kidd in Hightech World. Praticamente hanno fatto un hack e ci hanno messo Alex Kidd. Buona visione! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.